secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie alexa gioca tennis oh bacchettine taxi ragazzi ragazze no ragazzi Oddio 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 scusate un po di parole la Grazie a tutti 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 Non so come non ho fatto un incidente Signori ho driftato con il camion Alexa spegni fonda Alexa spegni fonda Alexa spegni fonda Alexa spegni fonda Alexa accendi neve Grazie a tutti Alexa spegni fonda Non è abbastanza C'è bisogno di un po' di... Vai cazzo Un po' di... Un po' di... Un po' di...